www.feyyaz.tv non fare a cattotti non fare a cattotti due colpi e vattene due colpi e vattene chiudi con la gamba e lascia Luca due colpi e vai via Luca due colpi e vattene due colpi e vattene giam e gamba giam e gamba non salsi lascialo Luca giam e gamba mi assegno assegno vedi colpi e vattene sempre anche sotto la prende così assegno non faccia cattotti sotto sotto lì sotto sotto di sempre sotto è sempre lì eccola lì laterale Luca mettiglielo di nuovo in testa lì ascia ascia ora vincere di pulita Luca di pulita lì 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 venga lì sullevali به No, no! Sulla braccia, sulla braccia, sulla braccia, sulla braccia, tieni sulla braccia, chiedilo lontano, sulla gani, manda vuote dietro, vola a tu, vai, doppia, 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 doppia uno, lascia la gente, di nuovo, braccia, braccia la gente, tienila via, tienila via, Sulla braccia, 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 braccia Non abbassare le braccia, vai! Non abbassare le braccia, vai! Vai grande! Fungi con quel genere, fungi sempre! Fungi con quel genere quando vieni, così! E dai via, uno o due! Fungi! Piano! Piano che lo spendi! Luca! Piano lo spendi se no! Salas! Salas! Leggero, Luca, leggero! Atencia! 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 Guarda la fronte a quella destra! Guarda la fronte a quella destra! Atencia! 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 Nostra care! Atencia! Atencia! Atenzione! Atenzione! Atenzione!